Bella ragazzi io sono Gamby e oggi siamo tornati su Fortnite perché c'è già stato l'evento però sto registrando in anticipo Cioè sei sì in anticipo certo sto registrando dopo la intro e adesso faccio anche l'auto perché prima non ho avuto tempo di farlo Avrei voluto portarlo in live però vabbè i server erano tipo stramega pieni quindi non si riusciva quindi mi dispiace ragazzi Comunque vi porto oggi il video perché mi fa piacere che comunque ho visto che tipo avevo startato la live e c'erano comunque persone in attesa Quindi mi fa molto piacere quindi adesso oggi vi metto il video buona visione Ci sono Oddio ma che c'è Vieni qua sopra Aspetta vai ho il jetpack Ma che sta Ma che sta Ma sembra un tornado Ma ne? Ciao amici No non si sta capendo Oh ci sono andate i cosi Ci sono andate i cosi Si ho visto si sta tipo a prendere la tempesta Sì sono io Si sta a prendo Tu quali sei? È un po' difficile Sei questo? Bravo GG Si 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 sta a prendere la tempesta Si sta a prendere la tempesta Si si Oh Dio Oh Dio È sposa Oddio No raga L'avevano detto che sarebbe Cos'è sta roba? Gesù sei tu? Cos'è il coso di Maya Fran? Ma è Gesù questo? Va bene Ma non vedo niente Ma che roba? Ti vedo ti vedo Ma che c***o No raga Ma io riesco a salire Che bello Eh si io ho il jetpack fortunatamente Ok sono salito Sono salito No raga Ok io non posso muovermi No non ci Ma cos'è sta roba? Ma ciao amici Spera che provo Eh non lo so La terza morte nuova Oddio No no frasa Ci ho andato di sfer Di cose Ah è la torre interna questa È vero È vero Sto volando solo io Sto volando solo io Ragazzi Stiamo levitando o sbaglio? Solo io sto levitando Sì stiamo levitando In realtà ho mangiato leggero stasera No raga Io sono fatto dove c'è la sfera Sono qua di fianco alla sfera Anche io sono sulla sfera Frasa sono sotto di te Ok No raga Ma che Io ci ho lasciato giù il portafoglio Sta forando la safe Eh Sì stanno qui i raggi sulla safe Oddio La sta allargando La sta allargando Eh la sta allargando Sì la sta allargando È un po' enorme Ma cos'è la cosa di Goku? Esatto Il volone energetica Ma La sfida è finita Oh non vedo più niente Non vedo Nukaz Ma Ma dove siamo? Ma dove siamo? Siamo in ufficio Siamo in ufficio Siamo in ufficio Beh È vero è vero hai ragione Siamo in ufficio Ma che Cos'era qua l'ufficio Oh non vedo più niente Potrebbe essere tipo l'ufficio di Milano Non so se lo Eh vabbè avete capito È il tizio d'oro Io sto scendendo Sto scendendo Sono sceso Sì no io Oddio Guarda va che roba No non più Si è sminchiato un po' qua Eh sì La torre inferno è spacciata Eh sì Adesso Oddio Si è spenta Si è spingiuta Adesso la tempesta si è incazzata Torna indietro E gli fa il culo Oddio Oh la pioggia Oddio raga guardate la tempesta Che Madò Mamma mia Non posso muovermi Io no Io posso muovermi ma non posso camminare Oh guardate qua sotto Non ti incazzare Madò No raga No raga esplode su tutto Incazzatissimo Porca voglia Sì sì no ma Non sto capendo più niente No io no Sono fermo proprio sotto la Madò Ma che Adesso sta fruttuando Oh È una guerra nucleare Ma che No raga Sta praticamente Amplificando con le tervi Vedete No no sta ristringendo Gli alagano Scherzio finito Sì adesso si sta ristringendo Stai arrivando addosso Stai arrivando addosso Sì 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 Oh madonna che sfigata però Giuro Oddio Minchia l'ha sbattuta via Era Quindi adesso basta Non ci saranno più tempeste Eh sì Basta Oh arcobaleno Cioè tipo Sì tipo Sì tipo arcobaleno Arcobaleno sta Dove sta Eh guardate intorno C'è l'arcobaleno qua sotto Ah è filo Sta l'arcobaleno Cosa è successo Ma che Chiazz Va bene No io e un tizio Ci stiamo puntando in testa Vicendo Ok proprio Ah ragazzi Siamo in due giocatori Perché gli altri due Oh vabbè Eh vabbè scusate Non lo faccio più Ma Sta roteando Eh cioè non è finito quindi Eh ma stai scendendo Stai scendendo Cioè non è finito Mi state dicendo Boh Eh mi sa di sì Beh immagino No Madonna Eh vabbè Oh Siamo ancora in ufficio Però Vedo Vedo della gente fuori Ma che voglio A lesbi Al telefono è Se vedi sulla scrivania Ci sono degli antichi Su Maya Se vedi nella scrivania C'è il mio portafoglio Prendilo Ok Dopo te lo porto Marco Grazie Prego Bastardo Mi riammorda C'era ma Dalle parole che ha detto Si dovrebbe creare il caos Praticamente Eh sì Ma che Scusate Dove si Ma dove lo vedi Cioè dove Ah Sì 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 Ho visto Sì sì Ma quindi Sì sì Ci sono gli squagli Io veramente gli odi Gli squagli È la cosa che ho Ma che No ragazzi Sì sì Ma che Ancora in ufficio Stiamo C'è Guarda Sei in prima persona Guardati sotto Vedi il tuo corpo È vero Ma chi è questo Ciao bello Aspetta 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 Riesci Riesci Abbastanza Cioè raga Tipo Boh O tipo Sta collidendo Con altre dimensioni Tipo come è successo Nella season Nella season 4 Nella season 5 Tipo Oddio No ragazzi Ma cos'è sta roba No ragazzi Ma perché Perché Io la volevo portare in live Che vita di merda Eh vabbè Eh vabbè Ma quindi Ma ragazzi Ma ragazzi ma quindi Mezza mappa è stata sepolta Dall'acqua Sì sì Praticamente sì 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 La sta seppellendo Ma quindi Quando viene l'acqua Stanno gli squagli Eh abbastanza No ragazzi No ragazzi No ragazzi L'acqua sta aumentando Cioè sta Stanno dritto Sì sì te l'ho detto Sta seppellendo la mappa Addio amici Io vado nell'acqua raga No Io è verità Voglio stare un po' sì Però io mi butto E sto con la caduta aperta Sì sì Anche io Anche io No ragazzi No è una tempesta Eh sì È come se la tempesta fosse Sotto forma di acqua Eh mi sa Quindi si firma Dove c'è il cerchio Della tempesta Fondamentalmente Eh può darsi sì Quindi veremo circondati Veremo circondati Però ci sta C'è nel senso È più bella Secondo me Vedere così la tempesta Sì 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 Quello c'è Che vedi tipo Dove ero squalo di prima Sì Prima ho visto anche io Lo squalo Sì sì L'ho visto Sì ma era enorme Cioè era enorme Sì sì no Era un megalodonte No sarebbe una figata Se tipo ci puoi Sì magari anneghi Tipo no muori Però ci puoi nuotare dentro Capito no Ah vedi infatti Si 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 restringe Si 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 restringe ancora di più Siamo destinati a morire male Ma quanti metri sarà sto coso 250 Oh sì Sembra tipo lo tsunami di 2012 Non so se avete mai visto il film Se si può nuotare Tanta roba Sì sì Si può avere Ma toglie danno Vediamo Toglie danno È come se fosse la safe Sì Sì madonna Si toglie piano No raga ma è difficilissimo No raga Praticamente sei morto Se vai Se ti becca la safe Sei morto Mamma mia Ma che No Prova a picconare Guarda come va A te va velocissimo A me va stra Oh Era un bug Allora l'effetto è una figata Sì l'effetto Mi piace anche a me Vedi Noi proviamo ad entrare Guarda Sì sì no Guarda Posso andare Sì ma guarda quanto toglie Ma poi ti sbatte proprio fuori No ti butta fuori Oddio ancora il piccone buggato Guardami Vai Vai È vero Oh aiuto Sono cattivissimo Guarda guarda Boom 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 Cattivissimo Vai vieni qua Minchia si atterro con uno sul tetto così Giro di Watt bam 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 morto L'effetto è figo però Cioè avevano detto che tipo si poteva nuotare con gli squagli Avevano detto che c'è capito Alla fine la mappa non è che sia allagata Semplicemente era safe Cioè non è cambiato una mazza la mappa Non so Sì ma Siccome ora ci faranno capire Che la mappa avrà inondata Per la season 3 vedremo che sarà inondata Sì vedrà Sì sì probabilmente Oh però Ma Ma dai Ma dai Vabbè Beh è stato facile Quindi ragazzi io spero che il video vi sia piaciuto Lo so che l'evento lo dovevo portare in live Però ragazzi non riuscivo Non mi startava la live Quindi vi chiedo scusa Se fosse così mi raccomando Commentate Condividete Se non siete iscritti Iscrivetevi E noi ci vediamo in un prossimo video Bella ragazzi E noi ci vediamo in un prossimo video 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 Grazie.